Il gioco d'attacco riceve Marconato lontano da Canestro, Bowers dopo i tagli serve Clark, arriva al blocco di Shevchik, ancora Bowers si alta da tre punti a segno Timothy Bowers. Fa girare palla per linea esterna Venezia, che ha la possibilità di sorpassare in campo ora anche Rosselli, Bowers, Rosselli riceve palla per Clark, la penetrazione fuori per Rosselli, l'errore, primo ferro ma arriva Timothy Bowers. Mister Utilità, sorpasso Reier, Marconato per Zorowski, spalla Canestro contro Pullen, si gira Zorowski, un po' forzato il tiro ma recupera Bowers sul filo dei 24 secondi, il pallone non aveva toccato il ferro ma Bowers si conferma il kill, mancare il suo apporto. Ancora palla recuperata da Venezia, una carambola premia ora Uvarek, palla per Bowers, Canestro immediatamente chiama time out coach Becky. Alle spalle Caserta di almeno quattro lunghezze in classifica. Caserta che farà visita alla Reier domenica prossima al Palace Portagliarci, intanto altri due punti per Bowers. A presto! Grazie a tutti